Benvenuti al Musme, un museo della provincia di Padova che racconta la storia della medicina ed è considerato un'eccellenza a livello nazionale. Si tratta di un museo di nuova generazione che racconta attraverso l'utilizzo di tecnologia all'avanguardia e la possibilità di interazione da parte del visitatore lo straordinario percorso della medicina da disciplina antica a scienza moderna, in equilibrio tra passato e futuro. Rete Eventi, una rassegna che coinvolge 65 comuni, più di 400 eventi nelle piazze e nelle sale del territorio della provincia di Padova, uno straordinario affresco di iniziative culturali, spettacoli, concerti, un calendoscopio di immagini e emozioni che vogliono rappresentare ancora una volta la vivacità e la bellezza della nostra terra. Un'edizione straordinaria frutto della collaborazione tra provincia di Padova, Regione del Veneto, Fondazione, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Questo luogo così magico e straordinario vuole essere il suggello di questa meravigliosa rassegna alla quale vi invito a partecipare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.